per me riccanza non è soltanto una condizione ma uno stato mentale per tutti riccanza il rollo lo sboccio la bella vita le belle macchine tanto divertimento non ci crederete ma ho fatto una scoperta sensazionale da oggi riccanza è anche vita da cani allacciate le cinture cioè guinzagli perché farid vi farà volare lei e shila entra nella nostra vita cinque anni fa avevo veramente bisogno di un po di conforto e quindi ho cercato il pincerino no shila per me è come la mia bambina mi capisce parliamo è veramente una delle parti più importanti proprio della mia vita insieme alla mia fidanzata che il resto della mia famiglia sono tatuato anche la sua zampina qui sul braccio abbiamo deciso di non lasciarla da sole e abbiamo preso il maschietto permessa la compagnia se la sono fatta anche di quelle gloriose oserei dire infatti fila poco tempo dopo rimane incinta quindi shila hermes bucchi e nana sono tutti quanti diventati membro fondamentale della famiglia abbiamo cambiato casa solo per avere un giardino più grande per loro abbiamo preso una villa che ha oltre 5 mila metri di parte se tu calcoli quanto grande il cane non è poco la scila è abbastanza avviziato sicuramente io ci ho messo del mio ma nel suo dna una predisposizione decisamente importante c'è però shila hai capito shila è un cane di taglia piccola e per questo il cavallo preferisce il cavallino lei è contenta anche lei quando andiamo veloci non devo far plus che manovra è perché lì si arrabbia ma se vado in rettilino non ne dà fastidio se la guido io è giusto che anche la scila abbia l'opportunità e il piacere di guidare una ferrara guidato lamborghini porsche faremo guidare anche la barca guidare un po di tutto insomma no giro in cavallino e poi per rilassarsi massaggio in spa che top quando dico sono iari c'è anche la bimba mi dicono sì c'è anche lei vedo che si rilassa più le di me abbiamo preso anche l'accappatoio per la spa rosa ovviamente scela oggi sei un po agitata cosa succede non è solo presente con me ma mentre fanno un massaggio a me fanno un massaggio anche al cane per l'una e mezza dobbiamo essere in ufficio abbiamo il nostro bagno aromatico per scena così è pronta e profumata per il vostro pranzo e io stuzzico qualcosa stuzzica qualcosa anche il cane ci la mangiamo andiamo a mangiare scelè come me quando sente parlare di mangiare va fuori di testa abbiamo preparato il tuo cocktail preferito analcolico e ancora minorenne lui si chiama peppino shot per il comando e rocchino per l'affetto un bacio o amore quando siamo insieme da soli e rocchino shot al parco con gli altri cani perché shot ha un motivo di azione peppino e il suo nome d'arte perché così no pepino in questo modo non sei educato è un bulldog inglese di 19 mesi di pura razza è come un figlio per me faccio sempre shopping solo per lui lui ha una poltrona dell'architetto philip stark che è diventata la sua cuccia ha delle scale per salire e scendere peppino è un amore quegli amori veri questo è peppino per me oggi lui è un maschio alfa non gioca con le femmine gli rompe le scatole lo chiamano il molestatore al parco abbiamo questo problema ma si chiama peppino shot o rocchino non ho ancora capito bene come funziona quello che ho capito è che lui la sa davvero lunga mica si accontenta delle tipe che trova al parco no no lui si serve addirittura di un'agenzia matrimoniale io sto cercando moglie per peppino vediamo nel nostro database che pretendente possiamo trovare la voglio bella bellissima quindi una bella gnoccolona e poi lui ha 18 mesi e quindi io non starei oltre 18 mesi va bene l'agenzia matrimoniale io trovo che sia una cosa molto ma molto interessante perché li devo trovare comunque una femmina per incontrarli che dovranno far l'amore lei è margot no non mi piace il nome non piace il nome al papà poi c'è vera ora che bel muso labbroni poi secondo me ha un bel petto che è molto sexy per te peppino ti piacciono un po formose o le vuoi un po lei che fa yoga non lo so se peppino la sopporterebbe no cosa così no no non le piacciono quelle che fanno fitness lei ha nove anni nove anni sono troppi uno stile rapper troppo un blog o guarda che sexy un po troppo reggina mi sa che è più difficile il papà che peppino nella scelta lei e cecilia guarda no vabbè ma la bellezza è meravigliosa amore cecilia meravigliosa e peppino shot rocchino che ti devo dire hai vinto tutto agenzia zero sbatti tac